salve a tutti benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City ciao Massimo Primitera ciao Marco Testoni e benvenuti ai nostri spettatori allora siamo di nuovo qui per parlare degli ospiti del Roma Film Music Festival edizione duemila e 24 allora uno degli intervistati più noti peraltro al grande pubblico non solo per quanto riguarda il cinema ma anche per quanto riguarda le sue presenze televisive è stato sicuramente il maestro Peppe Vessicchio figura che conoscono tutti trasversale dai ragazzi agli adulti io mi ricordo Massimo quando siamo stati a vedere eh il la serata Skyfall circondato da ragazzini che lo riconoscevano e gli chiedevano i selfie quindi eh eh fa piacere il il constatare che anche una persona che in fondo ha un ruolo di direttore d'orchestra non esattamente eh una rock star sia così conosciuto anche tra i giovani forse questo è anche un bene parlaci un po' allora di a che cosa dobbiamo la sua presenza al questo festival romano diciamo che è stata la presenza più particolare più particolareggiata e devo dire anche abbastanza articolata perché il maestro Peppe Vessicchio che è tra l'altro una persona di una cultura musicale straordinaria avendo fatto poi veramente ehm diversi lavori in tutti gli ambiti musicali compositori di colonne sonore direttore d'orchestra ma anche attore comico eh qualcuno se lo ricorderà ma è soprattutto un cultore di di uno studioso della musica eh diciamo del passato soprattutto un cultore della musica mozartiana cito Mozart non a caso perché il maestro Vessicchio ha presentato eh un un talk dove c'è musica cibo e armonia perché eh lui è riuscito negli anni attraverso degli studi affrontati da Mozart e da lui ripercorsi e su questi studi creando delle composizioni ad hoc è riuscito a cambiare letteralmente il sapore dei pomodori dell'uva che poi è diventata vino ovviamente e c'è c'è un suo vino che si chiama musiche andatevelo a cercare o andate a leggervi il mio reportage su colonne sonore punto net perché la sua musica su dei canoni mozartiani cambia veramente il livello armonico le frequenze armoniche di questi ortaggi di questa frutta e di questo vino che lui crea diventando ovviamente di volta in volta più saporito più frizzante più elegante più ora il vino io non sono un sommelier ma comunque varia e ha fatto un esperimento proprio live cioè lui ha messo un ipad con la sua musica sotto un piattino di un limone di una metà di un limone tagliato a pezzettini piccolini un ipad sotto un piattino e un altro piattino a parte sempre con lo stesso limone tagliato sempre a metà e a pezzettini quello non trattato musicalmente è rimasto a cerbo e con la buccia durissima quello trattato musicalmente dalle composizioni di peppe vesicchio basate sulle composizioni storiche di mozart sugli studi mozartiani è diventato buonissimo da assaporare da assaggiare molto dolce e la buccia morbidissima quindi veramente quasi un miracolo detto così sembra qualcosa all'audini o alla david copperfield no è pura verità tutto comunque sondato tutto certificato guarda questa componente visionaria di vesicchio mi mancava e me lo fa stare ancora più simpatico guarda quindi ok vai con peppe vesicchio buona visione buona visione buon assaggio ci troviamo alla terza edizione del roma film music festival quanto è importante un festival che mette al centro la musica per immagini penso sia importantissimo perché tra l'altro c'è una grande attenzione da parte dei giovani musicisti a questo settore perché il visivo grazie agli smartphone insomma ai tablet e adesso anche al fatto che attraverso la televisione il cinema è molto più presente nelle nostre case ha in qualche modo stimolato nella loro mente il la necessità di trovare i conti di congiunzione tra quello che vediamo è quello che è associabile come suono quindi il fatto che esista un festival e che possa essere tra l'altro in una città come roma così centrale rispetto al fenomeno cinema mondiale che lo sia sia una cosa molto molto importante parlare di questo argomento confrontarsi su questo argomento c'è sempre troppo poco ecco prima anzi devo dire che i festival e festivalini di diciamo se ne erano in giro però non c'è mai stata una una vera centralità della di questo fenomeno e ce ne è bisogno perché sono tanti coloro che vorrebbero sapere questa tua risposta ci porta la seconda domanda quant'è fondamentale la musica scritta per il cinema e per l'immagine filmica diceva morricone che che l'opera delle immagini è prettamente del regista cioè lui in questo era diciamo era molto chiaro diceva io partecipo di questa situazione do un contributo ma di fatto rimane l'opera rimane l'opera visiva tanto perché le sorti dell'opera fondamentalmente dipendono proprio dalla parte visiva però è anche vero che nella come ci insegna la sua esperienza quando colui che si sta proprio in quadro alla realizzazione dell'opera visiva sente già attraverso il rapporto col compositore prima ancora di girarla prima di realizzarla sente la forza che può generare l'insieme dei due linguaggi questo diventa fondamentale per chi poi va nella sala a vedere quest'opera e secondo me sarebbe auspicabile pur rimanendo direttamente visiva all'opera come il cinema ma sarebbe auspicabile che l'interazione avvenisse prima già direttamente sul soggetto sulla lettura sugli intenti perché secondo me ne potrebbe guadagnare anche il visivo ecco in termini proprio di nuove intuizioni realizzazioni morricone voglio dire forniva la musica a leone perché leone potesse girare le scene quindi coloro vermo sulla scena hanno già una successione di ritmo e di ambiente da punto di vista sonoro e questo li ha sicuramente favoriti nella ricerca di una coerenza tra quello che vediamo e quello che ascoltiamo hai qualche aneddoto sui forum studios che ospitano questo festival? insomma non tante di episodi che riguardano il forum una delle cose che mi piace dire ai musicisti e che coloro che vedevano a suonare nel forum studio rispetto ad altri studi sia romani che anche di altre città parlavano di come il suono circola all'interno dello studio quanto questo li prendesse partecipi di quello che stavano suonando quindi se noi troviamo una forma partecipativa a quello che sta accadendo sicuramente siamo più disponibili e più liberi a contribuire dal punto di vista emotivo se questa è la difficoltà invece della circolazione del suono noi dovremmo stare più attenti a quello che facciamo che è una cosa molto diversa perché l'attenzione l'attenzione come tensione invece quando il suono circola il musicista è felice di suonare quello che fa perché lo fa veramente nella unità dell'orchestra è una delle cose che raccontavano i musicisti e che io trasferisco ai giovani questo perché la considerazione dell'ambiente diventa fondamentale e questo è un ambiente magico ma non detto solo da me, ho detto da tanti, ci sono anche dei cartautori che dicono che quando vengono a lavorare qui il tempo scorre in maniera stranissima non si sentono stanchi e invece si accorgono a un certo punto che è passato, sono passate delle ore e questo è potente che sono favore nella concentrazione solitamente i grandi ambienti delle sale a volte risultano dispersivi ma qui sarà perché succede una chiesa, non so, vorrei fare un paragone diciamo inappropriato però di fatto secondo me qui succede una cosa di spirituale che ha un suo valore io qui ci ho registrato insieme a Fiorella Lanoia un intero album dedicato a Lucio d'Alla e devo dire che eravamo tutti in uno stato di grande partecipazione ecco uno studio questo deve generare fondamentalmente se ti senti che devi indossare un abito particolare, il camice come si dice a volte e stare sull'attenti, questo secondo me non favorisce qui c'è un clima di grande professionalità e allo stesso tempo di grande cordialità musica, cibo e armonia sono sensi che in qualche modo vengono appagati e noi viviamo attraverso i nostri sensi la realtà che ci circonda io quando ho scoperto che il suono interagiva con ciò che mangiamo quindi gli alimenti della natura, con il vino che è un prodotto dell'uomo ma che nasce ovviamente dalla natura io ho gioito perché ho trovato che ci fosse la possibilità di coniugare questi linguaggi e tutto sommato erano tutti linguaggi che pensavano a cuore quindi un po' come quando, ecco, come quando finiscono le immagini al sonoro io ho lavorato nel mondo della musica per il cinema perché ho fatto l'orchestratore per dei compositori ho anche composto musica mia in alcuni casi però sono stato preso dal mondo della televisione fagocitato dalle orchestre dei festival piuttosto che dei varietà televisivi dei talent quindi sono stato attratto dalla musica in sé ma ho frequentato il fascino del rapporto tra il visivo e il suono ed è un mondo che andrebbe coltivato le dico che chi fa canzoni o chi si è occupato del mondo della forma canzone o delle altre forme musicali non è detto, se voglio dire, l'ha fatto con successo che riesca nel mondo del cinema e viceversa quindi sono due cose che viaggiano parallelamente ma credo che con sensibilità e conoscenze e predisposizioni assolutamente diverse grazie 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 grazie